Grazie, prendo i complimenti e dico che ovviamente siamo contenti per come si era messa la partita. Se dovessi parlare della prestazione direi che sono contento per la prestazione ma il risultato ci sta stretto. Però dobbiamo essere onesti e dire che abbiamo avuto una grande risposta di carattere in campo, abbiamo dato una grande risposta di carattere. Anche noi come il Pescara siamo una squadra giovani e quando si va sotto 2-0 fuori casa con una squadra che ha dei valori come il Pescara, averla ripresa credo che sia meritato anche quindi ovviamente andiamo via che questo pareggio credo che sia anche di più di un pareggio. Tra le note positive di questo campionato di Serie B c'è anche Dionisi che due stagioni fa allenava in Serie D, oggi è su una panchina di Serie B, sta facendo bene perché il Venezia è una delle squadre che gioca il miglior calcio in questa stagione, una rivelazione possiamo dire. Ma questo ditelo voi, io sono concentrato sul presente, ogni partita si sentenzia qualcosa quindi è troppo presto per fare delle valutazioni o tirare delle conclusioni. Un allenatore deve confermarsi con la propria squadra ogni partita, io già penso alla prossima che giochiamo con lo Spezia che ci ha raggiunto e sarà una partita molto molto difficile. Però sicuramente questi complimenti fanno piacere, il merito comunque rimane della squadra perché l'allenatore senza i giocatori fa poco e non dobbiamo essere così soddisfatti perché se facciamo prestazioni positive dall'inizio e abbiamo 18 punti dobbiamo essere motivati per ottenere di più attraverso le prestazioni. Spiega due cose dal punto di vista dattico mister, la prima come avevate fatto a trovare sempre tutti quegli spazi e a occuparli bene soprattutto con le mezze ali a mettere in difficoltà il Pescara, la seconda avete costretto il Pescara ad una sola ripartenza con Borrell, con Brunori al 43esimo del secondo tempo, non l'avete mai fatta ripartire. Sì è vero, questo è stato una cosa importante perché il Pescara ripartenza è molto 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 forte, ma gli spazi si trovano occupandoli bene, sono giocatori che si mettono a disposizione, si fa tanto in allenamento, mettono tanta disponibilità, infatti abbiamo chiuso con due attaccanti che facevano le mezzale, questo lo dice tanto sulla disponibilità dei ragazzi, è normale che le cose vanno stimolate, bisogna crederci a prescindere da un risultato magari negativo o meno positivo di quello che ci si aspettava, questo è quello che stiamo facendo, non dobbiamo fermarci ripeto perché ad oggi siamo soddisfatti delle prestazioni ma sappiamo che possiamo far di più attraverso le prestazioni ottenere qualche risultato anche più positivo. Fare di più cosa significa puntare ai playoff? Qualche minuto fa il direttore del Venezia Fabio Lupo è stato diplomatico sulla domanda riguardante gli obiettivi del Venezia, però questa squadra potrebbe puntare ai playoff? No, io sinceramente guardo partita per partita e sto attento a non essere risucchiato sotto, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, poi le valutazioni quotidianamente gli fanno gli addetti, settimanalmente le fanno i giornalisti, un allenatore valuta la propria squadra e il tempo per le conclusioni non è ora, come si dice i cavalli buoni si vedono al traguardo, noi il nostro obiettivo sappiamo qual è e ad oggi siamo fuori dalla zona a rischio, credo almeno perché non ho visto la classifica sinceramente e poi col tempo vedremo, dobbiamo essere bravi a mantenerci tali, quello che siamo, non è facile perché delle volte si guarda troppo la classifica e si ascoltano troppo gli addetti ai lavori, dobbiamo essere bravi a isolarci e continuare per la nostra strada e sono convinto che allora otterremo i nostri obiettivi e se saremo bravi poi penseremo anche a qualcos'altro, però no è troppo presto. Le chiedo un'ultima cosa, le richieste però le fa l'allenatore in sede di mercato, le farebbe piacere avere in questa architettura di gioco così bella qualche individualità come quella che ha il Pescara? Lupo ha detto faremo solo qualche ritocco, però Fabio lo conosciamo, è molto diplomatico. Ma dico la verità, se non perdiamo nessuno direi anche di sì, perché io sono contento di tutti i ragazzi, ma di tutti i ragazzi, anche quelli che sto coinvolgendo meno, perché comunque in allenamento sono tutti disponibili e tutti presenti e quindi il primo obiettivo è che si rimanga tali, poi se ci sarà la volontà del direttore insieme alla società di migliorare, perché no? Ma il gruppo non deve essere intaccato. Poi se vogliamo chiedere una cosa al volo, ma com'è finita quella partita dell'anno scorso con il Monza di Berlusconi? È playoff. In che senso? Il risultato finale. Sì, è finita il nostro vantaggio, abbiamo vinto a Monza, abbiamo tratto molto beneficio nella partita in casa, perché loro hanno ribaltato il risultato, però avevamo il vantaggio del doppio risultato e abbiamo eliminato una corazzata. Peccato poi, ahimè, siamo usciti la successiva, però insomma avevamo speso tantissimo, quindi siamo stati molto soddisfatti con quello che abbiamo fatto. Dionisi, per chiudere, tornando all'attualità, siamo quasi alla fine del giornale d'andata, secondo lei il Pescara, lei ha visto un po' tutte le squadre, come può collocarsi? In questa stagione può puntare ad un piazzamento playoff, può puntare ad un campionato importante? In sincerità glielo. Mi aspettavo la domanda e speravo non me la facessi, perché è bene che parli della propria squadra. Credo che Pescara abbia dei valori, oggi sono visti perché onestamente Pescara non ha fatto tanto, non tanto ha fatto due gol e questi sono valori. Quindi credo che, ho risposto a dei vostri colleghi nello stesso modo, è perché è quello che penso. Credo che se intorno ad una squadra c'è equilibrio, la squadra può raggiungere l'obiettivo sperato. E quindi in questo dovete essere bravi voi, bravi gli addetti, bravi tifosi, perché è un attimo andare fuori sede.